sapendo che avete una sostanza nei cieli che è migliore permanente ebrei 10 verso 34 è proprio così la nostra sostanza qua giù è poco sostanziale un'esperienza priva di sostanza ma dio ci ha promesso una vera ricchezza nel cielo e quella promessa giunge ai nostri cuori con tale certezza che dentro di noi sappiamo di avere lì una sostanza durevole sì l'abbiamo fin d'ora un proverbio afferma meglio un uovo oggi che una gallina domani ma noi abbiamo sia l'uovo che la gallina il cielo è già nostro adesso ne abbiamo il titolo di proprietà la caparra e le primizie sappiamo di averlo non soltanto per sentito dire poiché percepiamo in noi stessi quella medesima testimonianza il pensiero di tale sostanza migliore dall'altro lato del giordano non dovrebbe compensare le nostre perdite attuali possiamo perdere tutto il nostro denaro ma il tesoro è al sicuro abbiamo perso l'ombra ma la sostanza rimane poiché il nostro salvatore vive e il luogo che ha preparato per noi dura per sempre c'è una patria migliore una sostanza migliore una promessa migliore tutto questo ci viene da un patto migliore quindi facciamoci animo e diciamo al signore ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome in sempiterno